Buongiorno a tutti, mi chiamo Michael e oggi cuciniamo un piatto mediterraneo, molto facile da cucinare ma è buonissimo. Dovete indovinare come si chiama. Questo piatto è molto dietico perché non ci sono quasi niente grassi e c'è tanta proteina. Gli indiani di California 12.000 anni fa lo mangiavano. Cos'è? Sono le cozze con il vino bianco. Vediamo gli ingredienti. C'è le cozze, poi il vino bianco, l'aglio e un peperoncino. Gli gambi del prezzemolo, il prezzemolo, le fettine di limone, olio d'oliva e pepe. Allora, iniziamo. Accendiamo il fuoco. Mettiamo l'olio. Poi schiacciamo l'aglio. Poi mettiamo il peperoncino, le gambi del prezzemolo. Oh, che profumo! Allora, mettiamo le cozze. Ah no. Queste due, tre, sono rotte. Li buttiamo via. E mettiamo le cozze. Ok. Allora, mettiamo il fuoco forte. Mettiamo il vino. E aspettiamo un minuto per l'alcool da evaporare. Ok, un minuto è passato. Chiudiamo la pentola. Ok, e aspettiamo circa tre minuti. Ok, togliamo il fuoco. Che olore. Mettiamo il piatto. È il mio piatto preferito. Venga da Sardegna. Ok, non c'è bisogno di mettere sale. Perché le cozze sono già insalate dal mare. Ok, un po' di pepe. Ok. Adoro le cozze. Un po' di pezzemolo. Tre fettine di limone. E' sempre con fresca ciabatta italiana. Buon appetito. Arrivederci. Non c'è sc tomato This is uno dei pezzi. E un po' di pezzi.